Benvenuti su Calcio360, il posto giusto per chi ama il calcio. Incredibile cosa Ceferin ha fatto ad Andrea Agnelli. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Nel corso della conferenza stampa organizzata dalla UEFA e presieduta da Ceferin, successivamente alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato il monopolio di FIFA e UEFA illegittimo, Andrea Agnelli si è collegato all'evento in streaming in veste di cittadino comune. La sua partecipazione è avvenuta in compagnia di giornalisti e altre personalità del mondo calcistico. In maniera sibillina, senza il consenso degli organizzatori della conferenza, è emerso che una volta identificato, Andrea Agnelli è stato prontamente escluso dallo streaming. Questa situazione di retroscena è stata descritta dettagliatamente da TuttoSport, che ha definito l'accaduto come una ripicca infantile. Cosa ne pensate? Se volete condividere la vostra opinione su questa reazione di Ceferin lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.